Sono partiti i concorsi indetti dall'ASL Salerno per la direzione delle strutture complesse degli ospedali di Polla, Vallo della Lucania e Sapri. A Luigi Curto il concorso riguarda un posto di direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale e un altro per geriatria. A Vallo della Lucania invece si cerca un direttore per chirurgia vascolare e all'ospedale di Sapri un direttore per il reparto di ostetricia e ginecologia. Gli incarichi avranno durata quinquennale, le domande e la documentazione allegata dovranno essere inviate al direttore generale dell'ASL di Salerno in via Nizza. L'accertamento del possesso dei requisiti sarà effettuato da una commissione di valutazione. Intanto nel golfo di Policastro, nel plesso dell'Immacolata, da circa un mese sono arrivate tre figure, un radiologo, un nefrologo e una cardiologa. Nominato anche il responsabile dell'unità operativa semplice di lungodegenza, il dottor Sebastiano Savia. Non si capisce invece perché per i presidi ospedalieri di Sarno, Polla e Oliveto è previsto il concorso pubblico per il primariato di cardiologia e per Sapri no. Non si capisce invece perché per i presidi ospedalieri di Sarno.